Due eventi che puntano l'attenzione sul dialogo tra il mondo della cooperazione internazionale e quello delle tecnologie digitali e tra il mondo della cultura e dell'arte africana con le culture presenti sul territorio. E questo è il filo conduttori di due eventi per il dialogo, due facce della stessa medaglia, che portano in inclusione, sviluppo e diritto allo stesso tempo guerra, profitti, illeciti e inquinamento. e realizzati grazie al partner della REA, la Cappella Underground, Donne Africa, Impact Hub, Trieste e il contributo del Ministero degli Affari Esteri, delle cooperative La Quercia e Quercia Ambiente, della circoscrizione di Trieste e di Corizia, dei soci di Banca Etica ed altri. Oggi presentiamo due eventi con realtà del territorio con cui abbiamo un rapporto consolidato. Il primo evento, novità di quest'anno, focalizza l'attenzione sul contributo tecnologico digitale esposa uno degli obiettivi dell'amministrazione comunale, che ritiene di fondamentale importanza la cooperazione che sta investendo molto nell'utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, quelli social media, detto il Vice Sindaco Martini per Omanessia, che durante la partecipazione al Social Week a Roma abbiamo voluto seguire anche il corso dedicato proprio alla cooperazione internazionale. venerdì 14 novembre 18, nella sede Impact Hub Trieste, in via Cabana 14, vi sarà la rotonda ICT 4D, tecnologie per lo sviluppo e diritti. Il secondo appuntamento, invece, riguarda il lotto Travelling Africa, un calendario ricco di eventi di novità, il 19-20 novembre 20 e 30, al Teatro dei Fabri. Due strati vicino, il 19esimo Case Deport, di tre registri francesi di origine africana, è un film comico che ricorda di vicino il classico. Non strano, il 20 novembre sarà il momento dei cortometraggi, due della Tunisia e uno delle banchi Faso. Il tema si sposerà da perfezione con quello della mostra fotografica, Colum insugnato, visitabile, dalle 17 al 29 novembre, verso la Biblioteca Comunale, 48 i Gambini. Lui di 24, infine, su prenotazione, l'Associazione Donne Africa proporrà una cena africana nella pizzeria mediterranea, nel corso della quale sarà avviata una raccolta di scarpe destinata ad alcuni orfani nel Camerun.